Secondo le statistiche di youtube solo l'1% di chi guarda i miei video è iscritto al canale Mi aiuteresti molto se decidessi di iscriverti ora, grazie! albero colossale del gaming ma magari veramente la madre con un macete davanti su gta rp su gt rp e ragazzi era per non fare la parte dove c'è stava l'uva dove stai doggiamo finita mia in alto io seguiamo basta che stai su un'uva per non fare il gradasso no 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 Ho 2 Whiz No 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 ce l'ho ancora Graffesê, Lugar Ideal, Para Plantadar to do top de vegetales Pabas, Nobo Strigo Miglio, Indica osativa de Ugal che lingua, Giallo Portoghese, questo No è spagnol no questo è portoghese tutta la vita a me sembrava parese però vabbè vedete voi era era cazzo di questo cazzo di elenco la lingua inventata frate ma stico non ho mai fatto un elenco non ho mai fatto così pochi punti in elenco ma perché c'è sto io che sto a vincere tutto però sono caduto non mi toccare ma ma ne sono vivo per miracolo vula 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 vede adro inter con la macchina davanti con l'ora genio del mare arrivo dalle ritrovi e mamma giusto 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 c'è riuscita qua sinistra belli qui se grazie per il livello 1 no zazzo ho capito un'altra cosa lascia per questa cambia mazzo ogni puntata non è che hanno cambiato le regole come sulla roulette come diceva il potrebbe essere pablo potrebbe essere faccia e benvenuto finissima o spaventosa mamma ea frate immagina se c'era di uno dentro non c'è e la madonna che brutto che brutto ah ok ce devo tu sei giganti sei giganti 56 goblin lanceri ma grossa cassa grossa cassa a porco per tutti quant'è bis lungo 100 euro sul pareggio no 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 No. 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 No, 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 piafuoco! Ma che cazzo! Uccidete! La sparate! C'avete duecentomila cose! Era dentro di me! Voglio uccidere quel bastardo! Brava! Sì, ma... Non troppo! No, non posso! Non posso! Non posso! Non posso, giù, giù! Abbaia! 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 Devi abbagliare! Non posso, porco di Dio! Abbaia! Ragazzi! Ok, sto per evocare uno troppo forte! Manu XO! Re di FIFA! Pablo! Pablo! Che è Pablo? Ma te sto distruggendo! Ti sto massacrando! Evoco! Evoco! Ti aspetto! Ti aspetto! Ti aspetto! Ti aspetto! Ti aspetto! Ti aspetto! E' capo E' capo Ah 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 Buenos Argentinos Vabbè ma che potrebbe non essere niente Fammi vedere qua Starbucks Potrebbe non essere niente Passa Paseo del Baco Una nuova autopista di transito pesato Relazione della Nazione CPM Quello di Youtube No non me ne frega un cazzo Ma è Singapore Eh Singapore Vabbè quello che è dai Sempre a bullizzare un ragazzo che in geografia non sa un cazzo Mannaggia a Dio Allora Eee Precaution Puente Giratorio Posso fare una domanda Eh dimmi Che culo Niente Hai fatto Niente Come niente Quattordicesimo ho fatto No come hai fatto Ma c'è aiuto a giocare in coda Non tira Ben pe La palla termina di pochissimo Ah Mi sono La solita Dita su per il buco del culo Porco Ti voglio vedere il boss segreto Voglio vedere Ti pare che devo bestemmia con questo No impazzisco No impazzisco Non me lo merito E devi fare la cosa Devi fare così per evitarle Per forza boys Mo gli vai sotto Sti cazzi Lo prendi Lo prendi mo Ecco Sempre Puntualmente Sempre che mi prendi 200.000 De vita Come sempre Il bambino